Oggi inizia con le selezioni, siamo praticamente quasi arrivati alla manifestazione, quindi l'emozione comincia a farsi sentire, perché ormai mancano pochi giorni e niente. Vediamo la candelora che sarà un altro bel colpo di emozione e poi siamo arrivati. Per Perolistano la Sardiglia è tutta, perché è una manifestazione che ormai esiste da più di 500 anni, quindi Perolistano è la cosa principale. Poi, per quanto riguarda il mio ruolo quest'anno, è sicuramente una cosa indescrivibile, perché è un sogno che ho da bambino e oggi ricoprire questo ruolo è come un sogno che si realizza, quindi l'emozione è troppo, è troppo. Mi auguro che va tutto bene, la prima cosa che auguro è che non piova, perché ormai sono 4 anni che il tempo non è da nostra parte, quindi speriamo che il tempo ci assista, poi per il resto prima ce la metteremo tutti e cercheremo di fare una bella figura.